Nani, dimmi la verità, perché non ti vuoi sfidare Paolo? Perché non posso, perché il calabinieri mi ha proibito di operare l'arme di Calabinieri. Ma perché ti ha il pugno forte? Non posso operarla perché si fa qua a testa. Non posso operarla perché si fa uno dei calabinieri. Non sei cattivese, non posso. Chi sei calabinieri mi ha fatto la porta lì. Ma ti ha già vantato una volta? No. No. Perchè ti ha avvisato? Beh, avvisato che non posso operare l'arte del carattè nè qua e niente a casa. 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 E nell'arte del carattè non posso operarlo neanche a casa. Non va più. Perché sono circa dei grandi. Va bene, dai, niente. Io non andavo, non posso riprendere, no. Perché se ne tenete, scopri una persona, dopo e dopo ti va in circa dei grandi. Non ti vuoi neanche farne vedere perché no. Ma far vedere ora. Dai, fa mi piacere. Fa vedere manco. Ciao. Dai. Fallo vedere però. Fallo vedere. Fallo vedere. Non so ad operarlo. Massa veloce però, fammi la più lenta. E neanche non sono riuscito a riprenderti. Sì. Porta pazienza. Porta pazienza. Porta pazienza. Aspetta. Abbi 8, Tony. Grande. 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 Ma ti scherzi. Sai! Sì. Sì. Se tu che puoi, ti puoi tirare loco... Lo troppo deve via. Ossia. Lo quieto. Vai, stai andare. Sì. Perché quando ti occupano, tu ti occupano. ... ... ... ... ... Allontanete un attimo, magari è pericoso Se non c'è un attimo, è pericoloso, che non sbriscia E mi mordi Non vorrei mai pensare a una cosa del genere In termini il袋, non c'è un tema Non c'è nessun nome, però non c'è nessun tarifo In termini Reggami Poi prendci un cuore Sì, non sto parlando Se non c'è nessuno Pericolano Pericolano Sì, non c'è nessuno Se non è difficile Non c'è nessuno Grazie.